E' gelata almeno. E' gelata? E' gelata? C'è tutto sto mettendo? E' vero che c'è? No, no, non so. Sta di dritta caramellata. Ah! Ma non so, non so, non so. Ah! O MIGAR! Oh! Mettali! Come che ci si aveva faccino lì? Come ci si aveva faccino lì? No, bene, così! Com'è che faceva l'avvocato? Dice, 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 tu ti ci ha beccato? Cosa già può? erano c'è l'acqua o c'è l'articolo non c'è l'articolo la roberto se è più biondo roberto roberto ecco oltre a oltre c è un bel sorriso eh però c'è sotto le labbra com'è che ti segonava stanotte? ehm ah mentre ci toccava a te non si male che puttana c mati, eccom'è 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 altra domanda eccom'è 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 ehm quante dita gli hai messo? eccom'è tutto fino al fondo tutto fino al fondo tutto fino al fondo eccom'è che faceva lei l'ultima donna che ho avuto mi ha fatto oye baby oye baby che fa messo che fa messo al fondo di figlia 150 ah e cosa è successo questa notte a casa di Samuel? vero la banana no cosa cosa dice lei per difendersi cosa dice lei per difendersi? mi sono mai schiacciato mi dica cosa ha visto questa notte mi sono mai schiacciato si è già brucia? si Sì, io vado a farlo. Guarda quella con il tv. Ma chi è che si è stiegato a casa mia? Ah, vero? No, si è stiegato a casa mia. No. Adesso che mentre chiudevi la finestra andrà dentro la stanza e... Chiudeva la finestra col pisello. Cos'è da dire? No, adesso parlo io perché... No, adesso parlo io perché il signore nostro è ricomero. Ieri sera mi ha disturbato con delle antimate molestie. Ha capito? E' per questo perché ha lanciato sul mio serratto dei perizioni commestibili. Cosa che mia moglie è percorro molto. Ma com'è che faceva? Facceva così. Parlava, chiudeva la finestra e faceva... Oh, mamma mia, mamma mia. Ciao. Sì, Simone, se mi vuoi conoscere questo è il mio numero. Sì, è clappo. Ciao, sorrido. Come mai è questa abbronzatura di tottapare? Sì, è clappo. Chi è? Mette la testa nel tuo... No. Mi chiede spesso. No. No. No, no, stai chiesto. No, stai chiesto. Eh? Ma figlio. Quanto è di cruci. Ma quanto dura sta merda? Non finge più sto video. Ma Gioppa non l'ha neanche iniziato? Che c'era di merda il cazzo sta riprendendo. Sta riprendendo, no? Sì, ha ripreso. Ha ripreso? Sì, ha ripreso. Sì, ha ripreso. Sì, ha ripreso. Sì, ha ripreso.